E guarda qua, guarda, quanto ero piccolo! Oh, quanto eri carino, quanto eri piccolo, poi... Vabbè... Poi chi? No, poi sei diventato l'uomo che sei... E questa? Chi è? Come chi è? E mamma! E quanti anni aveva? Trenta? Che trentasette! Ah, beh, ma voi proprio come tratto di famiglia sembrate tutti più grandi! Tra un po' è la festa della mamma! Sì, infatti, che regaliamo alle mamme? Io la mia volevo farle un regalo dalla lista dei desideri di Save the Children, un regalo solidale! Anch'io la mia! Ah, e l'apprezzerà? Certo! No, perché lei, so, e voi come tratto di famiglia, cioè vede che non subito apprezzate... Oh, ma che affè, ma ti offendi! Lista dei desideri di Save the Children, l'apprezzeranno tutte le mamme, anche la sua! Ma perché sottolinei? E' la doma crocca, vero? Te la sei meritata! O la domanda! Grazie a tutti! Grazie.